un incontro molto ravvicinato con l'orso e l'avventura vissuta da una cinquantina di persone ieri nei pressi della stazione ferroviaria di canzano mentre effettuavano un picnic erano circa le 19 e 30 e all'improvviso hanno visto spuntare un orso notevole lo spavento da parte di tutti i genitori hanno provveduto a prendere in braccio i propri figli piccoli e molti si sono messi ad urlare abbiamo avuto l'orso ad una distanza di circa 70 80 metri racconta una delle persone che si trovava sul posto ci siamo messi ad urlare prosegue con l'orso che è rimasto indifferente e ha proseguito la sua passeggiata lenta il plantigrado per fortuna non ha avuto nessuna reazione feroce e si è avviato successivamente in salita verso i boschi per tutti è stata una liberazione da quest'incontro fortuito che ognuno avrebbe comunque voluto evitare il corpo forestale dello stato ricorda che quando si incontra un orso a distanza ravvicinata è bene non scappare ma allontanarsi lentamente non ostruendo la via di fuga e nel caso di attacco si può tentare di porre tra sé il mammifero borse zaini o altri oggetti per proteggersi dopo attimi di sgomento i presenti sono riusciti a fotografare l'orso mentre si stava allontanando da loro per ricordare quello che è stato un evento davvero straordinario che però se non ci fosse stato sarebbe stato meglio